Mi ricordo che stavo con mio nipote Gustavo, Gustavo Lacan eravamo vicino a un agliasetto quando a un certo punto questo Gustavo strano cominciò a fare le pizze e dovetteva battere Tagliata tacca, tagliata punta, quanto è buona la sua assunta tagliata tonda, tagliata tacca, quanto è buona e bella quando a un certo punto dovete passare da lontano una bestia tipo l'uomo quell'uomo si è fatto andare ma non era un uomo era una sorta di cinghiale Stai? Mi ricordo un certo punto io e Gustavo che stavamo che stavamo che stavamo che stavamo con Gustavo e da lontano questo cinghiale si misero là a scusare mìa fermi tutti panico e insomma questo cinghiale avanzava correva correva correva... «Viva lui» «Mio nipota gustava dicendo...» «Esteve la cosa...» «Esteve la gente...» «E un certo punto...» «Mio nipote gustava...» «Perse la teca da beca alla paia...» Ma l'articinante c'erano da porca, avremmo notato che non è una specie di maiale, e allora tagliatello, ciucco da porca, arrivederci io, mia nipota Gustavo, la canna fa gustare la gusta Gustavo, la panna fa gustare la gusta Gustavo, la gusta Gustavo. Tagliate d'acqua, tagliate punta, quanto è buona la sora sunta, tagliate punta, tagliate d'acqua, che niente sotto che parte spacco, tagliate d'acqua, tagliate punta, quanto è buona la sora sunta, tagliate punta, tagliate d'acqua, c'ha la ballerina, peccato non c'hanno cazzo, ai 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 ai, canta il coglione, parlando diceva il molico, ti faccio un trastinco vado non fada l'ai Grazie.